oggi della lega salviamo l'ambiente trattiamo il tema della produzione di tessuto di cannaba e dunque cosa fare innanzitutto per riciclare anche il tessuto biologico come la cannaba ecco vi faccio un esempio c'è una produzione di mutande di cannaba che chiaramente per la pelle chiaramente ecco potete vedere le mutande di cannaba sono adatte per tutte le pelle delicate e non è biologico e Pasquale da casetta mi scrive qual è la parte davanti e quella di dietro essa è proprio ignorante davanti è gialla dietro sono marrone no ecco e allora cosa fare dopo averle usate un anno ecco invece di gettarle via le mutande di cannaba noi attiviamo così il riciclaccio in questo modo come ci ha insegnato ad un Magara Antuncazà questo profeta cuciniere indiano ecco vediamo aggiungiamo un pomodoro una cipolla una mezza pannocchia e anche una suola ecco di pelle biologica e con le mutande di cannaba ci verrà un ottimo brodino vegetale provare per credere